una bella betozza ancora sul canale di marco drums games hammer fighting andiamo a vederlo insieme, welcome to online, online, locale, character, setting, controllo, language, inglese, ok feedback lasciamo stare, character locale online, andiamo online, ok vediamo se c'è, c'è, già trovato, direi una verità funziona, bravo, ho provato già, se funziona meglio di tanti altri giochi che sono solo online tra l'altro allora in realtà, io dove sono? e sono morto, ok, ah quindi si spawna ancora ok, cazzotti ci stiamo cazzottando con piacere, però credo che si possa che si possa prendere, solo credo è morto siccoltà non si prendono le cose allora sono due in blu e gli altri qui, sono in squadra allora qua si para ah, col cerchio col cerchio si lancia, beh, però è divertente che legnata con la pala che ti ho tirata oh gli ho spaccato una pala in spazio vittori team blu beh, non sarà lunghissimo questo video che farò ma è un giochino divertente nulla di più, nulla di meno chissà che sarà free to play spero proprio di sì, perché hammer fighting una mappa sola credo che poi nel gioco ufficiale ce ne saranno anche di più noi siamo rossi adesso allora no, non hanno capito che sono in salvezione, credo bene questa cosa così riusciamo a segarli ok questo mi ha segato oh, scaspita mi ha dato una bella legnata questa qui questo guarda di là oh, caspita non c'è mai di cristalli, fanno malissimo ok sono nati sopra ok penso che la gente non sa che cosa sto facendo ok vittorio team rosso grandi grandi Marco Drums tutto 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 come un batteraio come un batterista come Marco Drums e poi tra l'altro amici e amiche non so se vi ho mai credo di sì nelle live spiegato il mio amico quando facevo i service audio e suonavo con gli americani del gospel suonavo la batteria con loro quando portavo le casse e le luci per fare il concerto service audio le luci loro mi chiamavano ah, un'altra stanza mi chiamavano tutti Marco Drums e da qui Marco Drums Gaze perché chiaramente qua non suono ma che gioco oh oh c'è un drone ok uno è andato l'altro arriva con un ventilatore adesso io ho una padellata stiamo scaldinando nell'angolino lo chiedono nell'angolino stiamo scaldinando la mappa cazzo iiii ii 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 una bella legnata ecco la padellata che legnata però allora divertente è divertente stavo sbagliando il senso questa è quella padellotta mi ha dato una bella padellata e mince ancora la squadra di Marco Drano abbiamo ancora un paio di partitozze insieme per farvi vedere il gioco per divertirci e per ricordarvi di iscrivervi al mio canale se l'avete già fatto grazie è andata via la connessione fatelo subito grazie mille e portate gente portate gente c'è anche un link in descrizione per i social ma la cosa importante qua su YouTube se no facciamo una locale se non va fate tradizione stavo già luodando il sistema di matchmaking online del gioco invece pam che subito ti smentisce però sembra che stavolta carina anche la canzone mi ricordo di seguire tutti i video che sto portando Wukong construction simulator taxi simulator tantissimi giochi tantissimi giochi e a breve e allora doveva arrivare Assassin's Creed ma l'hanno spostato a febbraio quindi non arriverà a breve arriverà invece farming simulator quello nuovo cacchio non ci siamo presi madonna dai 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 marchito marchito è un uno contro uno e sei morto sei morto Marco mi sono oh oh Marco arco 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 oh stabiliamo un po' l'ordine porca no no ma perché sono su io stavo vedendo un'altra parte ok no mi ammazza questo non mi fa spawnare giù questo vuole prendere per forza il ventilatore ah oh la prima volta che abbiamo perso per uno credo eh eh si dai ma facciamo un'altra poi la proviamo in locale però locale credo che si possa giocare più persone sulla stessa console comunque oh è divertente se non dà da fare non so quante mappe ci sono che sta laggando di brutto sta laggando di brutto ok laggando davvero tanto oh 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 lì basta va 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 via volato questi qua scassa tantissimo vediamo tutte si è bloccato si è bloccato dai si è bloccato non funziona proprio il mio personaggio l'altro li fermo no questo è stato un disastro un disastro allora proviamo la locale vedere che cosa succede eh si infatti pensavo 4 controller e niente dai bella demo bella demo gioco piacevole di 4 scazzotate e si finisce qui credo poi e se ci sono problemi bisogna vedere il feedback ai programmatori marco drum games vi saluta vi ringrazio per aver visto questo breve video di beta e ci vediamo al prossimo episodio sempre di beta di giochi in the one playstation xbox qualcosa su pc posto anche sul canale tutorial e tutto quello che c'è guardate anche nella playlist così potete scorrere oltre i 200 giochi che ho portato se volete farmi qualche domanda salutarmi e un mi piace sempre sempre gradito ma la cosa fondamentale è iscrivetevi al canale ciao ciao